Non registro con una Sony Alpha 9 con un 24-70G Master, non ho l'ultimo MacBook per montare i video con Final Cut e scarico la musica gratis. Però dai, non fanno così schifo i miei contenuti. Venite che vi racconto il mio workflow qui su YouTube e sugli altri social. Let's go! Yeah, grandi ragazzi, benvenuti sul mio canale, mi presento, sono FedeFB94, per chi non mi conoscesse, video un po' diverso dal solito, quindi magari raggiungiamo anche qualcuno che di fatto non fa parte della mia community, spero che questa cosa vi piaccia. Sono qui su YouTube da circa un annetto, un annetto abbondante, porto principalmente Fingerboard, se non sapete cos'è recuperatevi tutti i contenuti dei miei social, ma oggi non parleremo di Fingerboard, ma parleremo di come realizzo i miei contenuti, qui su YouTube, ma anche sugli altri due social. Se non lo avete già fatto, vi invito a seguirmi, di andarmi a seguire, vabbè, insomma, solite cose. Parto innanzitutto con il dire che l'attrezzatura che ho citato nell'intro, io non è che non la vorrei avere, la vorrei avere, solo che al momento i miei ricavi da YouTube sono praticamente, non voglio dire zero, ma tipo meno 500 euro, perché costruisco un mucchio di roba, no, da comprarmi legno, vabbè, lasciamo perdere, mi piace farla, è una passione, quindi per il momento continuiamo e perseveriamo. Buttiamoci subito quindi dentro al topic del video e per farlo prendo il primo strumento che utilizzo, ovvero quello che mi serve per la prima parte nella realizzazione dei video. Sto parlando ovviamente della scrittura del video stesso. iPad Pro M1 l'avevo preso per altri scopi, ma perché non riciclarlo? Apple Pencil con GoodNotes, ho scritto anche questo videino qui, lo utilizzo soprattutto per quelli che sono i video un po' più strutturati, quindi in particolare i video che porto qui su YouTube. Per Instagram e TikTok in realtà tutto quello che viene dopo è abbastanza simile, se non per dire uguale praticamente, ma non mi scrivo particolari video, tanto sono molto brevi, ho in mente quello che devo fare, arrivo, registro, per accorciare anche un po', no, i tempi di realizzazione, dato che questo non è il mio primo lavoro. Come scrivo i miei video? Beh raga, non è che perdo due giorni a scrivermi un video, anche perché già perdo mezz'ora, un'ora a registrare per non parlare di quando poi costruisco qualcosa e quindi i tempi si allungano molto molto di più, mi scrivo a sommi capi, quelli che sono sostanzialmente gli argomenti principali del video, mi scrivo delle note sui punti che non mi voglio dimenticare e dopodiché passo subito alla seconda fase. Seconda fase che è quella della registrazione. Probabilmente qui è il punto in cui, tra virgolette, sono un po' più debole, ma non mi sento per niente debole, spiego che cosa intendo. In questa fase è innegabile dal mio punto di vista che più uno spende, più qualità ha a livello tecnico. Quindi qui, fotocamera top, obiettivo maxato, luci, audio raga, non dimenticatevi l'audio per piacere. Se uno spende tanto, secondo me ha tanto. Poiché magari non sappia sfruttare il potenziale, è un altro discorso. C'è da dire però che la tecnologia in questo campo qui può raggiungere prezzi veramente, veramente alti e secondo me ci sono dei compromessi che alla fine si possono accettare per portare di fatto un contenuto comunque di buona qualità. Io registro tutti i miei video con il telefono, ho un iPhone 14 Pro Max che registra in 4K, 60 fps, quindi di più non voglio assolutamente avere. La resa è abbastanza buona, certo con una buona macchina fotografica, una buona videocamera associata degli obiettivi, si riescono a raggiungere qualità migliori, uno sfocato migliore, una resa un po' più cinematografica. Però raga, per quello che devo fare io sinceramente anche sti cazzi. In realtà qualche ripresina per video particolari così statici come questo la faccio anche con la mia Fuji X-T2, macchina che ormai ha 10 anni ragazzi, praticamente la uso solo per fare le foto, però mi piace ogni tanto, almeno così ci sono anche due punti di vista, secondo me ci sta. Come microfoni ho due microfonini che io ritengo essere molto molto validi. Quando sono qui in studio utilizzo un Razer Mini, eccolo qui, momento ASMR. È un microfono da PC ragazzi, l'ho attaccato a un supportino che ho anche portato qui sul canale nel video di rifaccio, il mio studio, una roba di questo genere, al soffitto, un supportino che scende dal soffitto e poi è attaccato all'iPhone con un semplice cavo, con un connettore USB to Lightning. Ma non è l'unico microfono che utilizzo, infatti quando sono principalmente in laboratorio e quindi non ho posto per attaccare questo microfono qui, ma faccio una ripresa abbastanza ravvicinata, utilizzo questo qui. Questo è un Rode video micro, lo attacco sopra al telefono con un supportino, poi qua raga ci vogliono 600 convertitori, vabbè, lasciamo perdere questo topic qui. Ha il suo antivento, il gattino morto. Devo dire che funziona abbastanza bene a corto raggio. Ho provato a utilizzarlo qui in studio, l'audio non mi piace tanto, perché comunque sono circa a un metro e mezzo dal telefono e si disperde un po', sente un po' di riverbero, un po' di disturbo, insomma, non è troppo da studio, ma da vlog spettacolare. Sto pensando di fare un upgradeino ai DJI Mic per quando sono in giro, che sono infinitamente più comodi, posso muovermi dalla fotocamera, però raga, 250 bombe per la serie 1, 350 per la serie 2, per la seconda versione, per cui andiamo un attimo con calma. Ultimo, ma non per importanza, raga, le luci. Ho un sistema di due luci frontali qui, Amazon, 20€ a LED, che mi illuminano, e qualche LED in giro sparso, ho una torcina lì sopra di ulanzi, anche quella lì l'ho pagata tipo 16€ al Prime Day, però penso che il mio setup luci sia abbastanza figo. Per una resa dell'immagine migliore, ragazzi, io investirei subito su delle luci piuttosto che su un nuovo strumento per la cattura, che sia un telefono nuovo o una macchina fotografica o una videocamera nuova. Luci al top. Ah, raga, mi stavo quasi per dimenticare, vedete l'importanza di avere due note scritte. Applicazione che utilizzo per registrare da iPhone, Blackmagic. Ragazzi, controllo assoluto, applicazione gratuita, posso controllare bilanciamento del bianco, posso controllare il focus, posso controllare l'apertura, lo shutter speed, insomma, il massimo. Veramente, veramente consigliatissima. Unica cosa che non riesco a trovare in questa applicazione qui è la cinematic mode di iPhone, che, vabbè, non utilizzo così tanto perché, in realtà, quando faccio i video, soprattutto di trick con il fingerboard, è bene che sia comunque tutto a fuoco perché, sennò, si creano, insomma, delle sfocature che non mi piacciono troppo perché, ricordo, sono comunque artificiali. Ma andiamo avanti alla fase 3, ovvero alla fase di montaggio. Qui, ragazzi, io ho un solo imperativo. CapCut. Non l'applicazione per mobile, io utilizzo l'applicazione desktop, in particolare sul mio MacBook. Questo qui è un MacBook un po' datatino, anche questo ha 4 anni, ma gira alla perfezione. Cioè, ragazzi, cosa vi devo dire di CapCut? È un'applicazione pronta all'uso, non ha bisogno di nessun plugin, di stare lì a cercare 2000 cose. Non che stia dicendo che Final Cut non va bene, però, ragazzi, CapCut gratuito. Sinceramente, non sono un videomaker esperto, quindi probabilmente ci sono delle funzioni che mi mancano, ma per un utilizzo, diciamo, standard, un po' così da neofita, se vogliamo chiamarlo, da non esperto, da non professionista, io non ho trovato nessuna mancanza in questa applicazione. Quello che voglio fare io è registrare, perdere il minor tempo possibile, perdere, tra virgolette, per montare, in modo da avere più contenuti possibile, che è quello che sto cercando di portare da un anno a questa parte. Costanza, 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 questo software me la permette, sono felicissimo, per il momento non sento il bisogno di cambiare. Finito il montaggio video, andiamo all'ultima fase, che è quella tra virgolette di tutti gli extra. Parto con le musiche. Ragazzi, dei video fighi devono avere delle musiche. Io per il momento sto usando solo musica gratuita, che scarico dalla raccolta audio di YouTube, per chi non lo sapesse, su YouTube, se andate su YouTube Studio, c'è una sezione dedicata a una raccolta audio, tutte musiche gratuite, non avrete mai problemi di copyright, perlomeno per quanto riguarda YouTube, ed è abbastanza varia, abbastanza aggiornata, insomma, sull'aggiornamento avrei qualcosa da ridire. Adesso è un anno che la utilizzo e sento che mi sta cominciando a diventare un po' strettina. Per adesso va benissimo così, non nascondo che sto valutando l'abbonamento a un servizio tipo Artlist, Epidemic Sound, per avere un po' più di varietà, perché mi sento di aver, tra virgolette, esaurito quelle che sono le canzoni che piacciono a me sostanzialmente della raccolta audio. Però ne ho prodotti di video, quindi devo dire che c'è una buona quantità di suoni, e di audio, e di musiche. Una volta che il video è finito e montato, ovviamente bisogna pubblicarlo. Per quanto riguarda Instagram e TikTok, ragazzi, non mi faccio troppe paranoie, lo carico così diretto e via. Per quanto riguarda YouTube, invece, penso che una copertina accattivante sia sempre un buon metodo, per attirare nuove views e spingere un po' di più quello che è il contenuto che stiamo pubblicando. Anche per questa fase rientra in gioco il mio iPadino. Qui utilizzo un software che è sì a pagamento, però ragazzi, una ventina di euro e lo comprate per tutta la vita. Sto parlando di Procreate. So benissimo che è un'app per disegnare, io non so assolutamente disegnare, ma è un'app così ben fatta che, raga, io mi sono sentito di comprarla sostanzialmente. Giusto anche per premiare gli sviluppatori di Procreate. La utilizzo un po' a modi PowerPoint, però è molto utile con l'Apple Pencil andare magari a modificare, a scontornare qualcosa. Devo dire che è un'app molto ben fatta e tutte le mie copertine su YouTube sono state create grazie a questa applicazione. E una volta che tutto questo processo è stato completato, il video è online e ci gustiamo le nostre 50 views a video. Let's go! E con questo, raga, io concludo il video. Spero che questo tipo di contenuti vi sia piaciuto. Un po' diverso dal solito, ma dai, mi piace anche un po' spazializzare, perché sennò sempre fingerboard trick, rampe da fingerboard, diventa anche un po' monotono. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, fammelo sapere qui sotto nei commenti. Ti chiedo anche un'iscrizione, che così supportate il canalino. E basta, da FedeFB94 è tutto. Noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video. Yeah! Noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video.